Bentornati cari telespettatori di Fano TV, canale 19 in diretta, cioè primo cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri che vi abbiamo già anticipato nel corso dell'edizione del telegiornale. Allora buonasera a tutti voi cari telespettatori, sindaco ecco il primo piano per lei naturalmente per introdurre questa puntata che come sempre sarà piena di informazioni utili per i nostri telespettatori, soprattutto quelli che risiedono nel comune di Fano e soprattutto dobbiamo dire che il comune di Fano resta fino a prova contraria il terzo comune delle Marche per densità di popolazione, quindi questa sera avremo come sempre quando c'è il sindaco di Fano il pubblico delle grandi occasioni perché sarete, e questo lo possiamo dire anche guardando i messaggi che stanno già arrivando, sarete sicuramente in tantissimi. E allora siccome gli argomenti sindaco sono tanti, sono davvero tanti, io direi di cominciare innanzitutto con la strettissima attualità, l'attualità è quella che ci riporta ovviamente ai fatti della guerra, l'emergenza profughi, anche Fano sta facendo la sua parte, ve l'abbiamo raccontato nelle edizioni scorse del telegiornale, abbiamo portato là i medicinali grazie anche ad Aset, abbiamo fatto quello che potevamo fare, ma soprattutto stiamo accogliendo le persone che fuggono appunto dalla guerra. Sindaco, qual è la situazione nella nostra città? Quanti profughi ci sono? Sì, intanto buonasera a tutti, è una situazione questa che ci addolora e ci preoccupa tutti quanti, ad oggi c'è una situazione significativa ma ancora in numeri tutto sommato contenuti sono il risultato di un'accoglienza data più dalle relazioni che da un'organizzazione governativa, cosa che immagino arriverà con il proseguire della guerra e con l'aumento dei profughi che ad oggi sono più di 2 milioni quelli che hanno attraversato il confine dell'Ucraina. Ad oggi c'è un'accoglienza attraverso le famiglie, attraverso alcune strutture, a cominciare da quelle messe a disposizione dalla diocesi e devo dire, qui mi sento anche di fare veramente un grande ringraziamento alle tante famiglie, alle tante persone che hanno dimostrato una grande sensibilità, ma la cosa che mi ha stupito favorevolmente, non sono rimasto sorpreso dalle mobilitazioni, dalla raccolta di materiale, dall'organizzazione di iniziative in questo senso, ma dalle tante persone che hanno aperto la propria casa. E questo non era scontato e devo dire è stata una bella cosa. Ricordiamo, Sindaco, però è importante questo, che tutte le persone che intendono ospitare i cosiddetti profughi appunto, ecco che ci sono però delle regole da seguire, che le abbiamo ricordate anche nel nostro telegiornale l'altra sera, in più occasioni, ecco è importante segnalare poi la presenza di queste persone, devono fare il tampone entro 48 ore, insomma c'è una procedura molto semplice, ma che però va rispettata perché è giusto che sia così. Anche perché se no, è brutto dirlo, ma è come se ospitassero dei clandestini, perché comunque l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea, e di conseguenza per la legge sarebbero clandestini. Quindi è importante seguire anche le regole. Poi tutto il resto ci sono facilitazioni. È importante anche per un monitoraggio, per avere un controllo anche dal punto di vista sanitario. È chiaro che la situazione tenderà a peggiorare e anche le persone che oggi sono qua non rimarranno qua per pochissimo tempo, perché anche se dovessero terminare le operazioni belliche, con la distruzione che c'è stata, prima che rientreranno, passerà del tempo. Però ecco, su questo ci stiamo attrezzando, ci stiamo adoperando. C'è una cabina di regia con l'associazionismo, con la Caritas, con la nostra struttura delle politiche sociali, con l'ambito sociale. Insomma, devo dire, nel nostro territorio c'è una bella organizzazione, una bella sensibilità e una bella collaborazione. Allora, voglio strapparle un attimo un sorriso, Sindaco, lo abbiamo visto in realtà prima della diretta, perché avevamo due minuti, abbiamo fatto un piccolo riepilogo degli argomenti che avremmo trattato questa sera nel corso di questa puntata. Le faccio vedere questa videosegnalazione che è arrivata alla nostra redazione, che riguarda niente meno che una bustina di carta, una bustina di olio che è rimasta lì a terra, vicino alla zona mare, e che un nostro telespettatore nota ormai da tantissimi giorni. Guardiamo. Vi ha le Cristoforo Colombo a Fano. Sono ormai quattro settimane che, andando a fare la spesa sabato mattina, noto sotto questa panchina questa busta di miele da bar per il caffè. Ora, poiché sono davvero quattro settimane, il signor Sindaco non farebbe meglio a rafforzare il servizio di pulizia o a controllare che puliscono veramente al posto di aumentarsi lo stipendio? Allora, intanto, di quanto si è aumentato lo stipendio? Beh, intanto, vien da sorridere perché non mi permetterei mai di aumentarmi lo stipendio. L'unica azione che ho fatto in tal senso è che me lo sono diminuito del 10% quando mi sono insediato. Poi uno se lo dimentica. Qui, effettivamente, c'è stata un'operazione che è stata un'operazione governativa, che riguarda tutte le città d'Italia, quindi non è un'azione del Sindaco. Detto questo, ovviamente, domani mi preoccuperò subito di avvertire Aset, l'operatore che passa in via Colombo per raccogliere quella busta, che ovviamente gli è sfuggita perché è rimasta sotto la panchina, con la macchina parcheggiata. I nostri telespettatori sono molto attenti, quindi non sfugge niente all'occhio dei nostri telespettatori. Quattro settimane, in effetti, sono anche un po' tante, però diciamo che sotto quella panchina non può passare né la spazzolatrice, non so se si chiama in gergo tecnico così, meccanica. No, quindi si può solo raccogliere direttamente. Raccogliere a mano, insomma. Qualcuno dirà, poteva raccoglierla lei, questa... Però poi dopo è una questione di principio, uno si... No, ma ha fatto bene a segnalarlo. Ha fatto bene a segnalarlo e noi l'abbiamo fatto vedere. Allora, abbiamo una telefonata intanto, perché le telefonate come sempre hanno la priorità, il contatto diretto con il pubblico e sentire la voce è importante. Allora, sentiamo chi c'è, se ce l'abbiamo al telefono, il nostro primo telespettatore o telespettatrice. Pronto? Sì, pronto. Ecco, telespettatore, da dove chiama? Da Fano, immagino. Sì, sono Mancini Paolo, chiamo da... pronto, mi sente? Buonasera. Buonasera, Sindaco. Ho stato parlato l'altra volta per l'asilo Manfrini, se ricorda. Sì, sì. Sono lo stesso, abbia pazienza. Però questa volta è per una cosa che riguarda l'estate, cioè da giugno a settembre i parcheggi blu. Ecco, è previsto un qualcosa di diverso dall'anno scorso? Ci sono dei permessi per i residenti che abitano vicino agli stalli blu del... per esempio lì, io sono al porto. L'anno scorso mi è stato detto dall'ASES che non potevo fare una richiesta di un permesso perché ero via canto del mare e invece gli stalli sono in via Nazerio Sauro e potevano far domanda solo quelli della via di fronte agli stalli blu. Non mi pare una cosa giusta, cioè io dico anche negli altri comuni vicini c'è la possibilità di poter avere con un permesso la possibilità di parcheggiare nel raggio di due o trecento metri, cioè per una macchina, ecco. Non so, avete previsto qualcosa di diverso quest'anno o rimaniamo come l'anno scorso? Guardi, ho difficoltà a parcheggiare, eh? Bene, grazie. Onestamente ancora non abbiamo messo mano, le regole sono rimaste le stesse dello scorso anno, però anche questa telefonata mi dà lo spunto per magari capire se ci possono essere alcuni accorgimenti. Lo scorso anno c'erano dei permessi per i residenti, ovviamente soltanto per alcune vie. Come diceva il Signore, probabilmente la sua abitazione non era proprio a ridosso degli stalli blu, era nelle vicinanze, adesso quello bisogna che lo verifichiamo con l'ufficio competente. C'è la questione dunque, sì, via Dante Lighieri, il traffico, i parcheggi e quant'altro. C'è qualcuno che chiede addirittura se è vera o no la voce che la fiera di San Bartolomeo verrà spostata a Lido? Sì, non è peregrina questa cosa, c'è una necessità perché come molti di voi sanno, c'è una nuova attività al porto che vede quotidianamente ogni giorno arrivare e partire una decina di tir. E questo ovviamente diventa un problema, questa cosa si è avviata da settembre, con la fiera impedirebbe l'accesso e creerebbe una serie di difficoltà. Quindi si sta ragionando di sperimentare lo spostamento più a nord della fiera. Ancora non è stata fatta la scelta, però che ci sarà uno spostamento questo posso affermarlo. E questa segnalazione arriva da un commerciante, da un titolare che ha un'attività commerciale in Sassonia che a questo punto può dirsi preoccupato perché la notizia quindi è vera e la voce è vera e quindi è facile che questo spostamento avvenga. Sì, fra l'altro c'è stato anche un ordine del giorno presentato da alcuni gruppi consigliari che chiedevano allo spostamento. Perché lui dice che poi dopo qua non rimane più nulla, nel senso come attività, come iniziative. Ovviamente è chiaro che i tre giorni di fiera si spostano. Andiamo dal mare allo stadio, lo stadio Mancini di Fano. A che punto è, in che fase siamo sui lavori dello stadio? Qui abbiamo fatto una serie di lavori, quelli programmati, sono tutti ultimati. Adesso noi ci siamo presi l'impegno che a Step saremmo intervenuti. Adesso dobbiamo far fare la progettazione di un pezzo di gradinata. C'è la necessità della gradinata, in parte quella degli ospiti è già stata realizzata. C'è tutta quella dei locali che non è stata realizzata, è stata solo demolita. Poi ci sarà in seguito l'esigenza anche di sistemare gli spogliatoi, però non sono cose immediate. Per quanto riguarda invece la piscina, nel corso del telegiornale, se avete seguito, cari telespettatori, avete visto, abbiamo parlato di una piscina. La titolare è un'imprenditrice che dopo aver pagato, dopo che l'è arrivata, una bolletta di 30 mila euro tra gas e luce, ha deciso di chiudere il suo impianto e la sua piscina all'interno di questa palestra. La palestra resta aperta, la piscina invece è chiusa. Quindi, Sindaco, a Fano adesso abbiamo soltanto la Dini Salvalai. Quella nuova che sta nella zona dell'aeroporto, quando verrà inaugurata? Sì, la nuova sta procedendo. Immagino che possa essere terminata entro l'anno, con un anno di ritardo, perché la previsione originaria era per ottobre 2021, ma penso per 2022 possa essere terminata e ci faremo il primo tuffo. Adesso la copertura è già iniziata, insomma le cose stanno procedendo. Sindaco, una marea di messaggi sulla situazione delle strade. Io a questo punto eviterei di fare la lista della spesa con tutto l'elenco dei messaggi. Sono veramente un'infinità i messaggi sulle condizioni delle strade. Allora, le chiedo, possibilmente, nei prossimi minuti, di fare una sorta di bilancio di quello che saranno i lavori di sistemazione delle strade. Se poi può essere anche preciso, può darci anche la via meglio, altrimenti va bene anche la zona. Sì, essere preciso mi rimane difficile perché sono veramente tante le strade che andremo ad asfaltare. Entro aprile partiranno i lavori di una prima tranche di asfaltature per 3 milioni e 700 mila euro. È già stata giudicata la ditta che dovrà eseguire i lavori. Fra l'altro è un pool di ditte del territorio, quindi questo mi fa anche piacere. Stiamo progettando altri 2 milioni, 2 milioni e mezzo. Adesso dobbiamo vedere con l'avanzo di bilancio che avverrà a fine aprile. Siamo proprio in questione. Anche domani mattina alle 8.30, proprio una riunione con alcuni assessori tecnici proprio per definire le ulteriori vie. E queste inizieranno, immagino, fine giugno e primi di luglio. Quindi abbiamo circa 6 milioni di asfaltature che riguarderanno tutta la città, tutti i quartieri. Sarà un intervento importante, non risolutivo. Questo ce lo dobbiamo dire perché le strade sono tante, le esigenze sono tante. Però sarà una risposta importante anche su strade importanti, richiamate molte volte anche a questa trasmissione, in questo appuntamento. Però ecco, ci tengo a dire che non abbiamo tralasciato nessun quartiere. Ecco, non solo le strade ma anche i marciapiedi, Sindaco. Anche i marciapiedi e vorrei dire anche i parcheggi. Fra l'altro stanno progettando, e anche questi entro l'anno partiranno, Foro Boario e il parcheggio del pronto soccorso, anche quelli sono in una situazione di degrado, molto frequentati, e quindi richiedono, hanno un'esigenza importante. Anche su questo ci sarà una risposta significativa, risorse già destinate, finanziate. C'è già il progettista che sta lavorando sulla progettazione, dopodiché affideremo i lavori. Anche su questo non dovremo fare una gara di affidamento lavori perché abbiamo già ultimato, anche qui affidato, una l'unità locale fortunatamente, con un accordo quadro che ci consenterà di affidare direttamente i lavori. Ecco, ma il progettista che sta lavorando sul Foro Boario progetterà anche un parcheggio sotterraneo oppure no? No, qui parliamo soltanto di un parcheggio in superficie, la sistemazione e la riqualificazione dell'esistente. Illuminazione, l'illuminazione è importante, anche se mi conferma che anche il Comune di Fano ha triplicato le bollette della luce. Domani approveremo una variazione di bilancio che per una prima tranche, piccola prima tranche, porteremo una modifica di 435 mila euro per pagare maggiori spese, ma in realtà sono solo una piccola tranche perché sono più del doppio gli aumenti che abbiamo avuto. Voi capite cosa significa questo anche per il bilancio corrente dell'amministrazione comunale. Allora, qui due aspetti. Uno, la sicurezza. Quindi non spegnerete le luci dell'illuminazione pubblica? Per l'illuminazione pubblica noi abbiamo delle regole da rispettare perché va garantita la luminosità, perché non dimentichiamo, se noi spegniamo poi succede un incidente, si venivano dei casi, poi partono anche le denunce. Dopo anche noi siamo simpatici. In base a come vanno le cose facciamo la polemica, che può essere anche l'opposto, polemiche una opposta all'altra. Però ecco, in questo momento cerchiamo di ridurre dove è possibile le spese per l'energia, ma non è semplicissimo, perché non dimentichiamo, le nostre strutture sono scuole, sono residenze, cerchiamo di ridurlo negli edifici pubblici dove ci siamo noi. Però ecco, sull'illuminazione pubblica qualcuno suggerisce l'alternanza di un palo, uno spento, un acceso, però questo capite che è un problema, perché può creare situazioni anche di pericolo, magari si può ridurre, adesso stiamo facendo dei ragionamenti, però ecco, al momento cerchiamo di ridurle il più possibile, però insomma è complicato. Ecco, Sindaco, ma l'aumento delle spese per voi che gestite i soldi pubblici corrisponderanno poi a un aumento delle tasse? Perché dove trovate questi soldi? No, riduciamo la spesa, nel senso, invece di fare determinate cose, ci rinunciamo per andare a coprire la spesa della maggior consumo, come avviene in una qualsiasi attività, in una qualsiasi famiglia. Allora, Germano è un po' sconsolato, un nostro telespettatore che ci scrive, ci segue da tombaccia, che è un quartiere della nostra città, che dice che questo quartiere è in forte degrado, siamo un po' dimenticati da tutti. Beh, ovviamente, prima dicevo, i nostri interventi riguardano tutti i quartieri, ovviamente dove sono più piccoli anche gli interventi sono minori, ma anche lì in questi anni ci sono stati degli interventi, sia per quello che riguarda le strade, ma ce ne saranno anche ulteriori. Poi, in alcuni casi, ci sono delle situazioni che si portano dietro negli anni, però posso garantire che l'attenzione è anche su quel territorio. Allora, 0721 86 14 33, lo vedete qui nel vostro televisore, scritto in sovraimpressione, non abbiate timore, chiamateci, perché è sempre un piacere essere in contatto con i nostri telespettatori. È la nostra missione, il nostro servizio pubblico, la nostra missione appunto quella di mettervi in contatto e cercare laddove è possibile anche di risolvere i problemi, perché parlare con il sindaco, per quanto al momento può prendere impegni solo verbali, però non è cosa da poco. Va bene? Allora, sentiamo chi abbiamo al telefono adesso. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Ecco, la sentiamo bene. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera direttore, buonasera sindaco. Buonasera. Io sono Marco, chiamo da Gimara. Sì. La chiamavo perché praticamente sono residente di Via Rizzoli, che penso il sindaco conosca bene, perché è originario della Gimara, quindi lo sa. Noi ci troviamo davanti al cantiere, quello che fu Ex Polo Holding, adesso Fondo Civers, non so come si chiama, e volevo sapere che interventi erano previsti per aumentare la viabilità che attualmente è ferma su Via Rizzoli e che, come sai, è una strada chiusa, quindi tutti i camion che passano 50 volte al giorno, tutte le maestranze del cantiere, oltre in previsione a tutte le persone che dovranno venire ad abitare lì, dove passeranno, perché per andare nella nazionale dove usciranno, poi senza parlare, se posso permettermi, dei disagi che stiamo subendo noi di Via Rizzoli, perché la via, a parte che non è stata asfaltata, è stata saltata nell'ultimo intervento, quindi è in una situazione disastrosa, perché è completamente distrutta per gli interventi degli allacciamenti e quindi è totalmente dissestata, è stato polveroso, terra ed è impossibile vivere, perché ogni camion che passa solleva una lungola di polvere di 20 metri. Questo vuole sapere. Grazie. Sì, intanto vorrei dire, tornando anche al ragionamento che facevamo prima, su Gimarra abbiamo fatto diversi interventi, sia sulla sistemazione delle strade, adesso abbiamo inaugurato un nuovo centro civico, stiamo lavorando sul secondo piano, lì c'era una situazione di degrado, perché con il fallimento dei lavori che erano partiti per la lottizzazione, adesso si è in qualche modo sbloccato e la situazione verrà risanata. Lì però c'è un tema, il signore ha ragione, perché Marco ha ragione, perché lì arriveranno quando si saranno insediati un certo numero di famiglie con altrettante auto. Io devo dire che dall'inizio mi sono sempre opposto a quella, l'utilizzazione che la consideravo anche per quello che riguarda l'ex colonia Inem, una presenza troppo massiccia che avrebbe creato disagio. Poi il tempo mi sta dando ragione. Purtroppo le strade sono quelle esistenti, doveva esserci uno sbocco, ma ci sono delle problematiche per le pendenze della zona. Lì fra l'altro c'è poi tutto il tema della nuova strada, che trova molti favorevoli, ma anche dei contrari, che dovrebbe creare uno sbocco, uno sfogo al di là dell'Arzilla. Quella può essere una risposta importante, ovviamente può creare anche delle problematiche, ovviamente tutte le opere importanti sono comode, ma ovviamente creano anche dei disagi e dei problemi. Però in questa direzione, adesso proprio in questi giorni, si sta avviando l'affidamento dei lavori per la progettazione, per cui sono questi gli sbocchi che ci saranno. Allora, adesso invece alcuni nostri telespettatori hanno notato che dove c'era prima il distributore dell'Agip, siamo nella zona per intenderci dove si svolge il carnevale invernale, lì c'era un distributore un tempo, vicino alla scuola Corridoni. Sono stati tolti questi pannelli, che significa, che cosa dobbiamo capire, perché sono stati tolti, manutenzione oppure si comincia a lavorare? Adesso io non lo so perché siano stati tolti, perché ancora non abbiamo avuto la consegna del spazio bonificato. Dovrebbe avvenire a breve, però posso dire che abbiamo già stanziato le risorse per la riqualificazione di quell'area. Adesso stiamo attribuendo anche qui l'incarico per la progettazione, anche se alcuni spunti c'erano già stati, e verrà riqualificata. Però ancora noi non abbiamo preso in consegna l'area bonificata. Probabilmente avranno spostato qualche pannello per entrare. Per entrare, perché dobbiamo dire che lì i lavori stanno andando molto a rilento, anche perché sotto... Sì, quando si parla di bonifiche, tempisti, si sa quando si iniziano, si sa quando si finisce. E problematiche gravi non ci sono, quindi... Lì che cosa verrà fatto poi, in sostanza? Beh, lì verrà fatta una riqualificazione di arredo stradale, che deve essere anche bella, come avviene in tante città dove ci sono gli attraversamenti di questa... Quello diventa lo stesso un ingresso della città. Quindi niente parcheggio, niente fontana... No, lì in grado, sui parcheggi, alcuni parcheggi rimarranno, ci sarà anche la ciclabile, ma risistemeremo la parte verde. Però qualcuno suggeriva di fare un parcheggio sotterraneo. Non c'è lo spazio per poter fare un intervento del genere. Che faccio bisogno dell'uscita, dell'entrata... Sarebbero gli spazi, i numeri, i posti pochi e l'investimento... Prima della pandemia, Sindaco, si è parlato tanto del biodigestore. Ci si preoccupava, no, dell'inquinamento e quant'altro. Ora, il biodigestore, che fine ha fatto? Beh, intanto il biodigestore va detto che non inquina. Questo, va detto per onestà intellettuale, è uno di quegli strumenti di energia alternativa. Produce biometano e non inquina. Questo non lo dico io, lo dice la scienza, lo dicono i biodigestori che ci sono in giro per l'Italia. Su questo c'è stato, io stesso sono stato travolto, se volete, da una serie di polemiche anche strumentali. Ad oggi c'è ancora molta confusione. Non c'è stata una capacità della politica provinciale di pianificare, di fare un ragionamento condiviso, purtroppo aggiungo io. Ad oggi ci sono alcune pratiche per due biodigestori in ettinere, che non hanno visto la conclusione. E c'è in corso, per quello che riguarda Fano, una manifestazione di interesse, che ha visto quattro gruppi partecipare e che non ha avuto ancora la conclusione dell'Inter. Ci fermiamo un attimo, Sindaco, per la pubblicità. Restate con noi, continuate pure a segnalare e continuate, se volete, a prenotarvi per parlare in diretta con il nostro ospite, il Sindaco di Fano Massimo Serra. Tra poco, tra un istante, torniamo. Sindaco di nuovo in diretta. Andiamo subito a Rosciano. La rotatoria del Codma, teatro qualche tempo fa anche di un incidente mortale. C'è questo progetto che ormai si sta a realizzare? A giorni dovranno iniziare i lavori, abbiamo anche qui aggiudicato i lavori, una ditta del territorio anche in questo caso. Ci tengo a sottolineare, anche qui sono state tante polemiche, critiche, non lo realizzerete. Io mi ero preso l'impegno, avevo affermato in più circostanze, anche di fronte a queste telecamere, che l'avremmo realizzata e oggi lo stiamo dimostrando. Io penso che nell'arco di 10-15 giorni devono presentare la fideusione e quelle cose necessarie per poter partire con i lavori. La ditta è pronta, sta aspettando di poter iniziare. A Torrette, Torrette è un quartiere della città di Fano, si trova sul mare, zona sud, lo diciamo anche per coloro che ci seguono un po' da tutta la regione Marche. È un po', sembra di essere in un'altra città in realtà, non sembra neanche Fano, ci sono più alberghi, sembra una vera località turistica, però è un po' abbandonata, dicono quelli che vengono, anche soltanto tre mesi l'anno, come pare questo nostro telespettatore, che probabilmente non ci segue da Fano, ma è una persona che viene soltanto a Torrette solo per passare qualche mese estivo. Ma comunque, a prescindere da questo, è un po' dimenticata? Dimenticata no, il signore che ha chiamato, che ha scritto... E ferma agli anni Ottanta, dice questo. Sì, ha ragione, confermo, tant'è che la mission che mi sono dato, e qui lo dimostrano i numeri, anche degli investimenti fatti che si stanno facendo, di un'attenzione rivolta a questa parte della città. Perché giustamente, come veniva evidenziato, la parte ricettiva più significativa di numeri arriva proprio a sud del Metauro, tra Torrette e Ponte Sasso. Nello specifico di Torrette, anche la stessa Ponte Sasso, adesso devo dire che abbiamo fatto l'investimento della pista ciclabile Ponte Sasso, stiamo ultimando i muretti, che sono anche esteticamente parlando un bel vedere. Ma in queste ore, anche qui abbiamo affidato l'incarico a uno studio di progettazione molto importante di Roma, fra l'altro legato a Fano, perché uno dei titolari è un fanese, per la progettazione del waterfront. Abbiamo già destinato risorse significative, adesso dobbiamo definire... Il waterfront è la passeggiata del mare. L'obiettivo che mi sono dato è quello di finire il primo stralcio entro la fine del mio mandato. e proprio in queste ore, nei prossimi giorni, ci incontreremo. Abbiamo già fatto degli incontri e poi per le prime indicazioni poi incontreremo tutti gli operatori, perché è il nostro modo di lavorare nel coinvolgere e farlo in modo partecipato, per poter poi definire il primo stralcio con le risorse già destinate. La stessa cosa la stiamo facendo anche per Sassonia. Proprio oggi, alle 13, abbiamo avuto un incontro con lo studio di Milano, che sta lavorando su Sassonia. Anche su queste sono delle belle suggestioni, perché vogliamo puntare alla qualità e alla bellezza della città. Abbiamo iniziato a farlo dal centro storico, dove ci sono tutta una serie di interventi importanti, tanto sono sotto gli occhi di tutti. Ne arriveranno, perché da qui a qualche mese partiranno 50 milioni di cantiere nella nostra città. Quando in questi anni mi dicevano non fate niente, no, stavamo seminando. Oggi stiamo raccogliendo con... Questi 50 milioni sindaco sono quelli del PN? No, allora, questi... Da dove arrivano questi soldi? Sono bandi, progetti che ci siamo portati dietro. Abbiamo partecipato ad alcuni bandi ministeriali e fondi europei. E ovviamente, sai, tra la progettazione, il coinvolgimento, pensate a Sant'Arcangelo, sono ormai anni, tutto l'effetto del PNNR, io devo essere bravo a intercettarlo per poi passarlo a chi verrà a fare il sindaco dopo di me, che sfrutterà i risultati che noi otterremo. Però ecco, il lavoro importante è quello di oggi nel recepire queste risorse. I residenti di Ponte Sasso, è un altro... Abbiamo citato Torretta, adesso ci spostiamo un po' più verso nord, quindi Ponte Sasso, siamo sempre sulla costa. I residenti di Ponte Sasso, sindaco, l'aspettano, l'aspettano con ansia, lei lo sa, sì. Lo so, e ricordo anche l'impegno che ho assunto, perché l'ho sempre fatto, l'ho dimostrato anche all'inizio del mio primo mandato, dove si verificò un episodio simile, mi ero preso degli impegni e poi sono stati tutti mantenuti. Parliamo, chiedo scusa per gli spettatori, dell'alluvione. Parliamo di un'alluvione che ha interessato questo quartiere. Esatto, siamo, non dico pronti, però il lavoro, noi abbiamo già affidato ad un professionista l'analisi di quelle che sono le cause, perché è inutile che noi interveniamo senza conoscere la causa del problema. Quello è l'elemento principale, su quello si basano poi gli interventi. Il professionista sta finendo il lavoro. Anche questa mattina c'è stato un colloquio, non con me, ma con l'assessore, assessora anzi, e il dirigente. Mi hanno detto che, insomma, nel giro di una decina di giorni dovrebbe essere pronto il lavoro fatto e a quel punto io convocherò un'assemblea per relazionare e per spiegare quelle che saranno le azioni da mettere in cantiere. Allora, ci stiamo avvicinando all'estate, quindi la statale Adriate, che qui andiamo dall'altra parte, diciamo dalla parte nord, dopo Fano verso Pesaro. Gli attraversamenti pedonali sono importanti, soprattutto, come dicevo, durante l'estate. Questo nostro telespettatore dice se è possibile, nel tratto successivo a Gimarra, fino a Fosso Segliore, come è stato fatto nel tratto di competenza del Comune di Pesaro, creare degli attraversamenti pedonali, evidentemente dotati di segnaletica anche luminosa. Sì, questo lo abbiamo fatto anche nella nostra città, anzi, penso che i primi attraversamenti illuminati ci sono stati fatti proprio a Fano. È vero, è vero, sì. Ovviamente ancora non siamo arrivati in tutte le situazioni, ma ogni anno aumentiamo, anche se adesso dobbiamo dire la verità, dobbiamo essere prudenti, lo dicevamo prima, con le bollette che vanno alle stelle, dobbiamo anche noi fare attenzione, è chiaro, non sacrificando la sicurezza delle persone. Ma continuiamo a parlare di illuminazione con il prossimo intervento telefonico che adesso la regia ci manda in onda. Pronto? Sì. Ecco, buonasera. 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 Dica. Buonasera, sono Agostini Cristina, benvenuto sindaco e bentornato a lei Marco Ferri. Grazie signora. Piacere di rivederla. Piacere mio. Io abito in via Don Gentili, conoscerà il viale di figli che è meraviglioso. Verissimo. Però c'è un problema, iniziano a spuntare le foglie tra poco, durano 7-8 mesi e avendo i vecchi lampioni alti è come se non ci fossero. però è possibile chiedere di mettere non più lampioni, ma lo stesso numero di lampioni però bassi come quelli dei passeggi che sono illuminati a giorno. Perché noi insieme al mazzo di chiavi giriamo con le pile, oltre che illuminiamo a spese nostre i nostri giardini perché c'è un problema anche di spreca. Quindi scusi signora, lei chiede di sostituire gli attuali lampioni con le luci LED, giusto? No, di abbassare i lampioni. Ah, di abbassarli. Sono già LED. Sì. Però sono alti. Sono alti e sono coperti dalle foglie degli alberi. Giusto? Sì. Sì. Grazie signora. Sì, ho capito qual è il problema. Francamente non sono in grado di rispondere perché non è una cosa banale, significa fare un investimento ed è una cosa che può essere solo programmata, non può essere esercita. Però se lo può puntare magari, no? Sì, stiamo pianificando lavori programmati già dagli anni precedenti. Visto che siamo a pari di illuminazione, posso annunciare che a breve un altro intervento già annunciato da tempo verrà effettuato, che è quello dell'illuminazione della pista ciclabile di Fenile. Adesso si avvia l'estate. Lì dovevamo, fra l'altro le risorse le avevamo messe già da mesi, però c'era stato un piccolo problema con la gara d'appalto, erano sorti alcuni problemi di carattere amministrativo che hanno allungato un po' i tempi, ma ormai ci siamo, a breve partiranno anche questi lavori. Allora abbiamo per esempio anche il problema dei bagni pubblici, adesso che arriva l'estate è vero, il Green Pass non servirà per entrare nei, almeno speriamo, però insomma i bagni pubblici, insomma la città di Fano non è che ne abbia... No, questo è, sono perfettamente d'accordo, un paese civile si misura anche dalla presenza di servizi pubblici. Sul mare ci sono, vanno un po' sistemati e tenuti bene, quelli dove mancano sono nel centro storico, fra l'altro c'erano ma non sono più presentabili, sono sottoterra, i bagni non possono... Ripristinare quelli no? No, richiederebbe un lavoro importante e poi sotto non sono anche igienicamente parlando, portano alla sporcizia, posso dire che li stiamo pianificando, io penso non per questa estate ma per i mesi successivi, abbiamo già fatto dei preventivi, quindi dobbiamo capire dove collocarli, perché non è semplice, in un centro storico come il nostro, collocare nuovi bagni pubblici, però anche questo prima della fine del mandato li avremo. Quando è che scade il suo mandato, Sindaco? Giugno 2024, due anni. Ancora deve pedalare. Però insomma, diciamo, tutte le cose che annuncio sono tutte per il 2023 al massimo. Al massimo. Allora Sindaco, i parcheggi vicino alla scuola della parrocchia di Bellocchi che aspettano da due anni. Il parcheggio adiacente è stato fatto nel 2000, poi non ha più avuto, dice lui questo segnalatore, più ha avuto manutenzione. Che cosa si può fare per questo parcheggio? Beh, adesso non è tra le priorità assolute, mi rendo conto, però rispetto ad altre situazioni che sono peggiori, dove interverremo a breve, sta nell'elenco degli interventi che dobbiamo fare, però devo essere onesto, non è previsto nell'immediato. Ho una segnalazione che io qui mi è arrivata così come, gliela leggo così come me l'hanno portata dalla redazione. Cimitero di Carignano. Sì. Ha bisogno di essere ristrutturato, è di due colori, arancione e bianco. Che significa? Non lo so. Adesso andrò a vedere. Ok. Allora andiamo a vedere adesso invece. Abbiamo un'altra telefonata, regia? La state preparando? Bene. Volevo sapere la situazione, dunque se ci sono partenze per città importanti come Roma e Milano, perché sappiamo benissimo che per quanto riguarda la tratta ferroviaria non c'è l'alta velocità qui vicino a noi, quindi per avere l'alta velocità bisogna andare comunque minimo a Bologna. Poi sì, da Rimini qualcosina, ma insomma la vera alta velocità comincia proprio da Bologna per noi. Roma non ne parliamo perché siamo... Sì, perché l'alta velocità non ci sarà mai veramente sulla dorsale adriatica. Ci saranno solo collegamenti a pettine. Il problema vero è il collegamento con Roma, col treno. Io mercoledì devo andare a Roma e purtroppo prendo il treno e perdo molte ore di viaggio. La giornata a metà si perde sul treno. Adesso col PNNR è stato sostanziato il raddoppio della tratta Falconara-Orte. Questa è una grande notizia ed è importante. Abbiamo avuto proprio col collega di Rubino e di Pesaro una riunione con gli amministratori dell'aeroporto di Falconara proprio per queste tratte che dovrebbero partire sia con Roma, con la Sicilia, con varie parti d'Italia, anche economicamente vantaggiosa perché quella può essere una risposta importante anche se non risolutiva perché sappiamo benissimo che non tutti possono prendere l'aereo. Il suo collega Ricci a Pesaro ha un sogno, quello di arretrare questa ferrovia è fattibile oppure su questo se ne è parlato ci sono 5 miliardi a disposizione per l'arretramento della tratta da Bologna a Bari diciamo così. Una parte se non sbaglio 2 milioni e 7 sono già destinati nella prima tratta perché 2 miliardi e 7. Ah non 2 milioni 2 miliardi e 7 per la prima parte, ne rimangono altri 2 miliardi e 3 però non so quale tratta potrà essere potrà trovare una risposta con queste risorse. È chiaro che noi diciamo auspichiamo che possa esserci l'arretramento perché porterebbe dei benefici importanti anche se qui poi si creerebbero altri problemi perché ogni cosa che si fa ha degli aspetti positivi altri negativi però quello che diciamo se si fa deve avere una continuità deve riguardare tutta la parte che perlomeno da Pesaro fino a Senigallia perché altrimenti si creerebbero dei disastri invece che dei benefici. Torniamo a cose più semplici che si possono realizzare come per esempio il ripristino di un cancello dei passeggi che si trova al lato di via 4 novembre che è stato abbattuto da un furgone come ci dice questo nostro ascoltatore o ascoltatrice. ordinare l'attenzione da controllare. Questo poi se è un incidente c'è anche l'assicurazione che copre le spese. Fra l'altro lì adesso verranno installate delle panchine intelligenti che ci vengono concesse da Enel X. Quelle che quando ti siedi ti si ricarica? Sì sì sono ultra tecnologiche e su questo c'è anche un lavoro adesso perché vorremmo ulteriormente riqualificarlo. Anche qui vorrei ricordare quando mi sono insieme al 2014 come erano i passeggi. Oggi non sono il massimo ma sono completamente diversi da come le avevamo trovate nel 2014. Alcuni interni li abbiamo fatti dall'illuminazione, dalla sistemazione ma su questo stiamo facendo un lavoro con il consiglio dei bambini che ci stanno aiutando a progettarli per ulteriori interventi di valorizzazione di quello spazio. Allora siamo quasi in chiusura. Sentirei adesso questa telefonata che la regia ha predisposto. Pronto? 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 Sì buonasera. Buonasera. Buonasera mi chiamo Paolo, chiamo D'Arociano. Sì. Un'informazione. Io passo per la strada che D'Arociano va al cavalcavia della superstrada per andare verso l'Ocean. Sono un utente della strada. È un disastro che il tratto di strada che va sul cavalcavia della superstrada e va verso l'Ocean. Confermo. Quella di cui parlavamo prima. È verso... Finito il cavalcavia della superstrada. Sulla destra c'è una buca enorme che sono sei mesi che è così. Guardi, ve lo stava dicendo il direttore... Vorrei capire quando sistemate quella strada. Grazie. È pietosa. Ci dà fastidio. Sì. Abbiamo capito perfettamente la segnalazione. Sì, ne parlavamo proprio fuori telecamera e posso dire che ci sono passato fra l'altro anche oggi, l'ho notata anch'io e adesso chiederò di intervenire intanto per metterci una pezza come si dice. Nella nuova programmazione, quella riunione che farò domani mattina, quella parte verrà interessata perché degli interventi li faremo anche in quella zona. Vorrei aggiungo anche il tratto dopo la zona commerciale. La prima parte è stata asfaltata ma quella che va verso il distributore è lo stesso in una situazione che richiede una manutenzione. Non potremo farla completamente tutta ma c'è anche tutta la strada che porta verso il Codma, lo stesso, via Campanella. Però lei, Sindaco, ha capito benissimo di cosa stiamo parlando. Però sono strade che ogni intervento parliamo di 7-800 mila euro. No, ma qui si tratta veramente. Ma questo domani stesso, domani alle 8.30 io ho una riunione proprio per parlare di questo. Ecco, perché è veramente pericolosa, ma tanto pericolosa. Allora, le scogliere. Chiedo alla regia un attimo di far vedere queste immagini. Io sono rimasto impressionato, ero in conduzione quella sera nel telegiornale quando abbiamo fatto vedere il tratto di Bagni Carlo, siamo sempre a Fano. eroso dal mare. Ecco, andiamo a vedere queste immagini, guardiamole insieme, anche con l'audio sotto magari così sentiamo un po' e ci... se riusciamo a sentire anche l'audio ambiente. Ecco, allora, la domanda è, Sindaco, le scogliere in questo tratto di spiaggia, cioè l'ultimo pezzettino manca, manca questo pezzettino. Verrà fatto. Quando? Il prima possibile, una parte non l'hanno ultimata perché anche con queste scogliere ci fanno impazzire le ditte che devono realizzarlo. È già partito i lavori per quello di Metauriglia e per uno stallo della parte interessata. Lì occorrono altri due stalli e su queste, o con risorse nostre, o con quelle regionali, le realizzeremo. C'è il Vice Sindaco che la sta seguendo, quindi gli uffici si stanno già adoperando per poterla paltare. Abbiamo un'altra telefonata? No. No, allora, sulla caserma invece dei Vigili del Fuoco, perché stiamo continuando a parlarne ormai da troppo tempo. Sì, il problema vero è che qui purtroppo, con queste crisi, con questo aumento dei prezzi, ci sta mettendo con le spalle al muro, perché sta succedendo che le ditte vincono gli appalti e poi non sono in grado di partire perché non stanno più nei prezzi. Allora, Sindaco, ci spieghi un attimo questa immagine, questo rendering, come si chiama in gelo. Allora, questa sarà così la caserma di Fano? Più o meno, sì. Più o meno così. E dove verrà realizzata? Verrà realizzata nel tratto, proseguendo in via Campanella, proseguendo dopo il Codma, andando in direzione zona industriale e commerciale, dove ce ne sono i supermercati, sulla destra, con il Codma alle nostre spalle, verrà realizzata lì, dove si prevederà anche l'analizzazione del palasport. Ma si farà poi questo palasport? Adesso andiamo via con la progettazione. Però sarà un palasport, come dire... Da 3.000 posti. 3.000 posti, quindi non sarà... Beh, non possiamo fare... Concorrenza al palas di Pesaro? No, non ha senso perché ha già problemi con lo di Pesaro per essere utilizzato. Non dobbiamo fare risorse che mangiano soldi e rimangono vuoti. Però che possano ospitare comunque medie... Adesso è una struttura che deve servire per lo sport e per i congressi. Sindaco, quelli di Ferriano, Sant'Angelo... Sì, comunque diciamo per la caserma. In realtà noi abbiamo già fatto tutto, i lavori dovevano essere già iniziati. La ditta non è partita perché ci ha comunicato che quei prezzi lì non sono più quelli attuali. Hanno aumentato una richiesta di oltre 600.000 euro, cosa che noi non possiamo raccogliere perché dobbiamo anche noi rispettare delle regole. Adesso abbiamo rinvitato a partire e se questo non verrà fatto saremo costretti a revocare e a affidare i lavori. E questo ci farà perdere qualche mese. Le stavo dicendo, la strada di Ferriano, Sant'Angelo, completamente disastrata. Sono tre anni che sollecitiamo ma il Comune... Se non sbaglio dovrebbe essere in questo elenco famoso. Famoso di strade da sistemare. Allora, il ripristino del parco giochi di via Gino Barteli a Finini di Fano. I residenti se ne prendono cura ma ormai i giochi sono usurati. Peraltro ci sono due ruote interrate di un gioco che ormai è stato rimosso 5-6 anni fa. Insomma, Luca le chiede se è possibile. Sì, allora su questo vorrei un'altra cosa a cui tengo. Un altro degli obiettivi che ci eravamo dati è quello che in ogni quartiere ci siano degli spazi attrezzati, verdi, che possono essere luogo di socializzazione, spazio per i bambini, per i genitori, insomma per tutti. Abbiamo iniziato dalle periferie. Abbiamo fatto una serie di interventi a partite a Cucurano. Adesso se passate per la famiglia vedete i lavori in corso a Rosciano ma ne seguiranno altri. A Fano 2 a breve ci saranno altri interventi di riqualificazione. E quindi l'obiettivo è arrivare in tutti i quartieri. Quindi adesso non so dire nelle tempistiche, però stiamo destinando risorse anche importanti per questi spazi verdi. Le faccio ascoltare l'ultima telefonata di un nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto? Le faccio ascoltare l'ultima telefonata di un nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ascolti, signor sindaco, buonasera. Mi farebbe piacere sapere qualcosa di più per le terme di Carignano, che non sappiamo niente, che sono molto importanti per questa zona. Abbassi la televisione perché sennò va in confusione. Tutti andiamo in confusione. Dove siamo noi, diciamo? Sì, ho colto la domanda. Ok, grazie. Grazie e anche per l'opportunità. Allora, concordo che questa è una grande opportunità per la nostra città. Un investimento importante. Molti milioni sono destinati. Però mentre la proprietà, coloro che hanno acquistato questi terreni, queste strutture, erano partite un po', insomma, velocemente, erano venuti a presentare il piano industriale, però si è fermato col tempo. Perché lì parliamo di due elementi. La parte termale, quella che vediamo nelle immagini, ma poi c'è una parte staccata che riguarda anche alcuni servizi sanitari. E da quello che si evidenzia, poi ovviamente noi siamo interessati, svolgiamo un ruolo come amministrazione pubblica, ma non dobbiamo dimenticare che parliamo di attività private. Quindi non è che ci possiamo sostituire o imporre... Ma si sono fatti vivi oppure no? Io ho avuto sempre un dialogo costante. Adesso c'è stato un silenzio da un po' di mesi a questa parte e che loro mi hanno giustificato con una difficoltà di dialogo con la Regione. Nello specifico ho anche capito a cosa si riferiscono, non tanto alla parte termale quanto all'altra parte. Quella alberghiera delle strutture... No, quella alberghiera... Quella sanitaria. Sanitaria, ok. Anche quella importante, perché qui parliamo a regime di questo investimento, anche un migliaio di posti di lavoro... Perché lì andrebbe, quando parliamo di sanitaria, una clinica, mi pare, se non ricordo male. Sì, ovviamente in parte convenzionata, in parte di servizi legati anche alle attività assicurative. È un progetto importante, ma anche qui l'investimento sulle terme sono quegli interventi che poi portano altri interventi, perché parliamo di strutture di 5 stelle super, che guardano un turismo del nord Europa, dove, adesso al di là della situazione di crisi che c'è, però ci sono studi di mercato che vedono quel turismo in crescita e cercano proprio luoghi come la nostra, dove c'è la cultura, dove c'è un bel paesaggio, dove c'è la qualità della vita. E quindi sono tutti gli ingredienti possibili. Posso dire questo, mi sono preso l'impegno di parlare anche con la Regione, fra l'altro la settimana prossima sono per firmare un protocollo, quindi sarà mia cura parlare, cercherò di parlare anche con il Presidente, per capire a cosa si riferiscono, se ci sono passi in avanti anche sulle esigenze che hanno manifestato la proprietà di dialogo, di risposte che ancora non hanno avuto. Sindaco, io avrei ancora tantissimi messaggi, tantissime cose da dirle e da chiederle a nome dei telespettatori, che ringrazio davvero perché questa sera siete in tantissimi. Quindi per noi è un motivo anche di soddisfazione, perché quando si lavora e si lavora anche in situazioni non sempre facili, sapere che dall'altra parte del televisore ci sono tante persone che ci seguono con tanta passione, tanti interessi e tanto affetto, per noi è molto importante e è un motivo di grande soddisfazione. Allora, mi spiace non poter leggere tutti i messaggi, però come sempre facciamo, ogni messaggio che noi abbiamo ricevuto questa sera lo terremo, come si dice, da parte, perché comunque servirà anche per la nostra redazione, li riguarderemo e vedremo se farne dei servizi, tradurli e trasformarli in servizi per le edizioni dei prossimi telegiornali. Quindi nulla va perduto, qui non si butta via niente, come si dice. Grazie Sindaco per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Un'osservazione, se mi è permesso. Volentieri. Ormai sono sette anni che partecipo a questo appuntamento. Io ho notato anche come cambiano le domande, come sono cambiate in questi anni. Io lo leggo intanto, noto un grande interesse e la funzione che svolge questa trasmissione, che non è banale ed è importante e aiuta anche me, devo dire la verità, perché molte volte rimane anche difficile, anche se non è Milano o Fano, ma non è sempre scontato che ci si riesca ad incontrare. E dall'altra mi fa capire anche quando diamo delle risposte, perché cambiando gli argomenti, io ricordo le prime puntate, c'era di tutto di più. Oggi ci si focalizza sempre, problemi non mancano mai, però ci si focalizza sempre su problemi più importanti, che riguardano la qualità, il miglioramento della qualità. Significa che tutta una serie di risposte sono arrivate. È chiaro che ce ne sono tante altre a cui bisogna affrontare. Però ecco, ci tenevo a sottolineare perché poi è anche la grande partecipazione e questo significa che si ha fiducia di questa trasmissione, perché porta dei risultati. Sì, allora, questa volta devo fare un po' un giochetto tattico. Devo stare ancora in onda per due minuti per una questione di blocchi pubblicitari, per cui le faccio una domanda che tra l'altro però mi interessava la risposta. I cassonetti interrati che in alcuni paesi, anche stranieri, si vedono e sono anche particolarmente affascinanti, misteriosi, perché a un certo punto sono nascosti praticamente, non si vedono, ma funzionano e funzionano bene. Avete intenzione, credo siano stati approvati dal Consiglio Comunale, di farli? Allora, sono complicati, intanto perché fanno, per esempio se pensiamo al centro storico, questo non è possibile proprio per la conformazione e per quello che c'è sotto il suolo nel centro storico, ma si sta ragionando per la zona mare. Aset ci sta ragionando, sta verificando anche alcune best pratiche, alcune esperienze positive in giro per l'Italia, in particolare più al nord. Proprio anche le prossime settimane, so che c'è una spedizione dovevo andare anch'io, ma andranno proprio per capire come sono organizzate, se è possibile a cominciare appunto dalle nostre zone del mare, dove voi capite anche d'estate un po' di problemi ci sono, perché questo intanto è una questione estetica, è una questione di pulizia, è anche una questione di odori, per cui migliorerebbe notevolmente la qualità della vita e del servizio. Però è chiaro, non sono cose banali, come dicevo, perché significa fare degli investimenti, che è il problema minore, perché una volta capito come farlo, ma c'è anche poi tutta una serie di investimenti per la raccolta, raccogliere i rifiuti da quelle strutture, cassonette interratte, non è come andarle a raccogliere in quelli attuali, perché significa avere mezzi appropriati, adattati e quindi ulteriori investimenti. Però la strada è sempre quella di migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti nella città. Grazie Sindaco, è davvero tutto, arrivederci.